Questi sono un chilo di mele, come i suoi colleghi dell'arma hanno espresso come dispesa il fatto che le mele marce sono poche e purtroppo non soltanto il caso della donna 32enne ma anche il caso di Stefano Puglia, Dovrandi e quello che accade anche all'interno del centro di ritenzione, vogliamo anche ricordarvi che purtroppo le mele marce possono crescere ovunque e quindi fate monitoraggio anche voi di quello che accade all'interno delle vostre caserme. Grazie.